Visit Enego nasce nel 2018, quando abbiamo deciso di fondare questa pagina. L'idea di 5 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 30 anni. Il nostro progetto intende aiutare la popolazione, la Proloco e la pubblica amministrazione nel promuovere il territorio di destinazione turistica. Nella fruizione di tutto quel bagaglio culturale, delle usanze, delle tradizioni che noi sentiamo nostre e vogliamo anche far conoscere a chiunque sia un po' incuriosito dal nostro territorio e dalla nostra realtà.